Mamma, questa macchia di caffè non è proprio venuta via. Ehi, colorati, sono così difficili. No, la mia felpa. Perché tu insisti con l'additivo di sempre. Ma ora c'è Ace Color, è l'additivo Ace. Laviamo due felpe macchiate di caffè con lo stesso detersivo ma additivi diversi. Per una usiamo Ace Color. Ace Color smacchia meglio perché attiva il lavaggio già a 40 gradi. Ehi, ma la macchia è sparita. E guarda che bianchi. Ace Color smacchia meglio senza danno ai colori.